E ci occupiamo adesso di teatro dopo il successo al Napoli Teatro Festival 2018, sezione osservatorio teatro in fabula, ritorna in scena all'apparire del vero dialogo di Giacomo Leopardi e della morte, scritto e diretto da Antonio Piccolo che ne è anche protagonista con Melissa di Genova. Un doppio appuntamento per uno speciale omaggio al poeta dell'infinito, di cui quest'anno peraltro ricorre il bicentenario. Dal 22 al 24 marzo lo spettacolo sarà in scena a Napoli al Teatro ZTN, unico spazio in Campania in cui non c'è nessun biglietto d'ingresso. Il motto è entri, ti godi lo spettacolo e lasci un'offerta. Il 30 e il 31 marzo invece, teatro in fabula, propone all'apparire del vero al Teatro Rostocco di Acerra. Questi dunque gli appuntamenti del spettacolo all'apparire del vero, dialogo di Giacomo Leopardi e della morte.